ok allora allora siamo su clash royale prima volta che faccio su clash royale allora partiamo dal presupposto che io devo trovare un clan perché volevo farvi vedere sono in un cazzo di clan spagnolo penso sia spagnolo non lo so comunque fa cagare cioè quali faccio molte cose buone li do faccio degli scambi anche troppo generosi per loro ma non accettano sono proprio morti quindi essendo che gioco poco su clash royale non ho neanche tempo di trovare un clan quindi se avete a disposizione un clan dove è attivo fate molti scambi dove si dona io dono ho due account quindi sono diciamo uno da convenienza averlo nel club che comunque dono sempre e faccio ottimi scambi allora partendo per questo vediamo qua un attimo come sono messo battaglia volevo fare due battaglie io uso questa roba qua ho creato questo deck va bene la batteria è sempre scarica per adesso sto usando questo deck qua che è non è velocissimo ma è bastardo quindi volevo provarlo insieme a voi cosa c'è torneo globale cioè vabbè facciamo una normale giusto per vedere come va come va usiamo un po il volume vediamo come va non sono espertissimo ma cerco sempre di cavarmela adesso io ho messo questa roba qua perché la telecamera non so dove metterla ecco che vero questo è un po bastardo questo ragazzo qua io partirei proprio così cattivo e la rischierei io vi metto un attimo qua perché ovviamente non vedo cosa c'è ehi ti fotto a pezzo di merda bastardo te l'ho messo nel culetto ah 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 mi hanno detto che sei un po fottuto mi hanno detto che anche sei un po coglione sei proprio un coglione guarda io te la metto lì nel culetto così tu mi congenerai e ti butto questo vabbè dai abbiamo beccato un nabbo questo è molto nabbo questo non sa neanche come si trova ma va bene così ma va bene così mettiamo qua va intanto ho capito come va a finire sta cosa qua io praticamente avere vinto ma va a finire il culo ma che cazzo stai a dire come va ma veramente dice eh eh ragazzo ci prova adesso prova il tutto per tutto io ti scasso qua così direttamente aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Diciamo che abbiamo trovato un nabbetto Apriamo qua Comunque ragazzi se avete Un cazzo di clan Magari se me lo dite così vengo E vengo a rompervi i maroni Questo non ho capito che cos'è Proviamo Come funziona Non funziona Proviamo, cioè uso le mie stesse truppe Proviamo Io adesso vi butto qua Dai forse vi lascio qua è meglio Ah ok quindi uso sempre le mie truppe Perfetto Va bene Vediamo Eccolo Così intanto ci togliamo fuori anche la regina Questa stronza Il dan amico mio me l'hai fatto Però adesso tocca a te Adesso tocca a te Ah guarda Hai fatto proprio tanto Sono proprio bastardo io Adesso ragazzi Questo è un deck Veramente bastardo Che se va Fa veramente male Praticamente se me la gioco bene Questo l'ha già perso Poi tutto può cambiare Metto un po' qua Che la luce Allora Tu dove vai Si 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 Come no come no come no Quattro Dai dai che facciamo la mossa finale Dai che facciamo la mossa finale Dai Come on let's go Let's go Let's go Dai che abbiamo windows Dai che abbiamo windows Let's go baby Let's go Non poteva andare meglio Bene Ah ok Quindi danno i premi Poi ovviamente Con le gemme Devi pagare Beh ovviamente Vai farei l'ultima Tanto questa la perdo Facciamo di qua o di là Andiamo avanti di qua Dai Mi devo fare la barba Vorrei iniziare a scalare Non l'ho mai fatto Però Ci sta Ci sta Ok Eh vabbò Yuhuhu Cazzo Questo sa giocare Cazzo a giocare meglio Anche qua Ma andata bene Boh Boh Non è male come mossa Questa avrei evitato io Morto tu io Ma che cazzo Ho ghiacciato Eh Il telefono Si sta per spegnere Aiuto Ma guarda te Ma guarda te Che culo Va bene va bene Dai come on Let's go Come on baby Come on Come on Come on Come on Come on Va bene Va bene ragazzi Io direi che con tre vittorie di fila Possiamo chiudere Sono corso in bagno Come potete vedere nel mio bagno Per non far spegnere il telefono Va bene Ogni volta che io faccio un video C'è sempre qualcosa che non va Togethers Ricordatevelo mi raccomando Bene Io finirei il video qui Per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Come si topa Grazie a tutti.